canottieri in allenamento di buona lena le sariando le triestine a caccia della bronzatura perfetta il fresco angolo della pinetta piuttosto che gli alberi delle barche in porticciolo e la nuova cornice settimanale di una parte di sveglia trieste che per un'ora al giorno dalle 9.30 alle 10.30 diventa sveglia estate e non potevamo che iniziare da barcola tempio dei bagni di mare e di sole dei triestini per una volta tra l'altro il mare ce l'abbiamo proprio alle spalle quasi calmo dal chiosco di piazzale Kennedy formula consueta con qualche aggiunta in ossequio alla cronaca di questi giorni ti sei già comodato sulla seggio? Io ti avevo preparato l'amaca allora dobbiamo dire subito tre cose primo che Babudera ha portato l'amaca è pronta no ma siamo ospitali quindi non è attaccata agli alberi quindi non c'è la multa? non c'è la multa ok c'è però un nuovo numero solo per le chiamate nella cornice esterna 3 5 1 17 56 147 e poi di tutto un po' raccogliendo al microfono di settimana in settimana l'anima della triestinità so che la me guarda sempre l'ha detto sempre la guarda brava non pensavo che sia così bello se parla triestini signora si è giusto quello si cosa l'abbiamo? capo? capo sempre signora Maura era buon era buon era caldo era buon anche il dolce i giocatrici di carte giusto? come si arriva qua le prime quattro cominciano le seconde quattro un altro tavolo adesso la va al bagno? madoro che vado al bagno con 85 anni che go quanto a partita? non si dice si muove tutto a posto? tutto a posto non mi risponde ma si muove quindi va tutto bene domani e per tutta la settimana ancora nel chiosco di Barcola ma non finisce qui come ha spiegato il vice direttore di Telequattro Ferdinando Avarino nelle prossime settimane cambieremo quindi ogni settimana saremo in un luogo preciso della città in modo che diventi anche un punto aggregativo se volete venire a intervenire fare altre segnalazioni cioè sveglia Trieste Telequattro sveglia estate in questo caso entra e scende in città proprio per essere più vicino a tutti ciao Grazie per la visione!